Musica Tutela dell'ambiente, il Piemonte punta su idrogeno elettrico e fotovoltaico Palazzo Lascaris, palazzo della memoria Ridotto il canone per la navigazione sul Po 50 anni della regione Piemonte, mostra carnevali e cimento invernale Nuova puntata di Consiglio News, ben trovati Maggior utilizzo di energie rinnovabili e aumento dei fondi europei per migliorare la qualità dell'aria Sono queste le misure che saranno messe in campo dalla regione Piemonte per salvaguardare l'ambiente Il Piemonte quando io vado in rappresentanza di questa giunta lo faccio con molto orgoglio Perché è una regione virtuosa Per far fronte alla situazione climatica e ambientale il Piemonte punterà su idrogeno, idroelettrico e fotovoltaico E sull'aumento dei fondi europei per migliorare strutturalmente la qualità dell'aria Ad annunciarlo nell'aula di Palazzo Lascaris l'assessore all'ambiente Matteo Marnati Noi siamo quasi sempre sul podio, sul podio per quanto riguarda le energie rinnovabili Sul podio per quanto riguarda l'uso degli incentivi Sul podio su quasi tutti i settori In tema ambientale il Consiglio ha approvato tre ordini del giorno della maggioranza La firma Alberto Preioni della Lega, Alessandra Biletta di Forza Italia e Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia L'utilizzo dei fondi europei indirizzandoli soprattutto sull'economia circolare e ecosostenibile E dall'altra parte anche la promozione dell'alta velocità per ridurre il trasporto su gomma E quindi l'inquinamento dell'aria Fino ad arrivare alla necessità di incentivare la mobilità ecosostenibile Con l'ammodernamento della produzione manifatturiera Fino alla necessità di incentivare l'utilizzo di mezzi ecologici Non con la repressione ma con misure positive di incentivazione Respinti altri tre ordini del giorno Dell'opposizione presentati rispettivamente da Sara Di Sabato E Francesca Frediani del Movimento 5 Stelle E da Marco Grimaldi di Liberi Uguali Verdi Quella macchia nera che continuiamo a vedere sotto la pianura padana È frutto di sicuro delle nostre attività antropiche E l'unico modo non è certo bucare le Alpi L'unico modo è ridurre le emissioni Chiedere un vero piano di riconversione ecologica dell'economia Noi pensiamo tra l'altro che ci sono certo gli strumenti pubblici I soldi dell'Unione Europea Ma sarebbe anche giusto che chi ha generato anche questa crisi Paghi questa riconversione Palazzo Lascaris lo scorso 27 gennaio è diventato il Palazzo della Memoria Con una giornata dedicata ai ragazzi delle scuole piemontesi Per non dimenticare mai gli orrori dell'olocausto Il Palazzo della Memoria nel giorno della memoria Ma non è solo un visticcio di parole Ma indubbiamente la volontà dell'attività istituzionale Dell'ente legislativo del Consiglio regionale Di aprire il proprio palazzo con vari eventi prodomici Per i più piccini, per i giovani e per le scuole Fare in modo tale che ci sia una staffetta generazionale Ai più anziani come abbiamo vissuto questa mattina Con l'avvocato Bruno Segre In modo tale che non si dimentichi nel futuro E questo è il messaggio che il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi Ha rivolto agli oltre 100 studenti Che hanno partecipato alla giornata Palazzo Lascaris Palazzo della Memoria Una mattinata in cui studenti di varie classi Dai più giovani ai giovanissimi Sono stati coinvolti in un percorso interattivo Che partendo proprio dal racconto di quanto avvenuto 75 anni fa Gli ha avvicinati a quanto accade nel mondo Ai giorni nostri per riflettere su cosa oggi voglia dire Deportazione, prevaricazione, abuso o ingiustizia Pensare a come vivevano, cosa passavano Dei ragazzi comunque a volte anche coetanei nostri Ci fa apprezzare la vita più che altro Perché vedere come venivano trattati sia donne che bambini Comunque persone innocenti è toccante Forti le parole dell'avvocato Bruno Segre Testimone dell'epoca che hanno risuonato nell'aula consigliare Gremita di ragazzi Vi ammonisco a studiare la storia che insegna molte cose E educa, plasma le persone e le induce a ragionare È sempre la ragione che deve prevalere E non la passione sfrenata per il potere Che porta a guerre e tragedie Un evento la cui unicità ha contrassegnato il secolo Ecco, se c'è una delle memorie collettive Che fondano anche l'Unione Europea E' proprio l'impedire che questo succeda di nuovo E' stato ridotto il canone per la navigazione sul Po Un'intesa che vede coinvolte quattro regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte Approvato all'unanimità dall'aula Un disegno di legge che riduce la spesa per la navigazione sul Po Da 130.000 a 13.000 euro annui Con un notevole risparmio per il Piemonte Che vede ridotta la propria quota Fino a quando il tracciato della via di navigazione In territorio piemontese Non sarà reso conforme ai requisiti previsti dalle norme europee Relatrice di maggioranza del provvedimento Letizia Nicotra della Lega L'importanza è che la regione Piemonte Parteciperà alla spesa Con una variazione di quota Che passa dall'1% allo 0,1% Andando così a rivedere gli oneri a carico del nostro ente Che passeranno appunto da 130.000 euro a 13.000 euro annui Relatori di opposizione Maurizio Marello del Partito Democratico E Ivano Martinetti del Movimento 5 Stelle Questa collaborazione con l'Emilia, con il Veneto e con la Lombardia Le regioni bagnate dal Po E' importantissima per la navigazione Sia dal punto di vista commerciale Ma anche sotto il profilo turistico, culturale Abbiamo accolto in maniera favorevole questa norma In quanto auspichiamo che il piccolo risparmio che ne deriva Possa essere reinvestito Per la valorizzazione della navigazione dei nostri fiumi piemontesi Al via gli eventi per celebrare i 50 anni della regione Tra questi una mostra sui carnevali storici del Piemonte E il cimento invernale Che ha visto tra i protagonisti il presidente del Consiglio Stefano Allasia Palazzo Lascaris si è aperto al pubblico Animato dai suoni di pifferi e tamburi E con le maschere tradizionali di quattro carnevali storici del Piemonte Borgosesi, Achivasso, Ivrea e Santià In occasione dell'inaugurazione della mostra Tradizione e storia del grande carnevale piemontese Visitabile fino al 25 febbraio Presso la biblioteca della regione Piemonte In via Confienza 14 E presso l'ufficio Relazioni con il pubblico in via Arsenale 14G Noi vogliamo proprio portare avanti queste iniziative Per ritrovare il folklore La tradizione Le nostre radici piemontesi La nostra bellezza di questo tutto Il nostro Piemonte Partiti Altro evento organizzato per festeggiare il compleanno Della regione Piemonte È stato il cimento invernale Con il tuffo nelle gelide acque del Po Di 120 orsi polari Così sono chiamati i temerari Uomini, donne e bambini Che hanno sfidato le basse temperature di questi giorni Tra questi il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia Insieme ai figli Giovanni e Ginevra Tutta una serie di eventi Nel 2020 stanno portando avanti Questi festeggiamenti dei 50 anni Sicuramente è un'attività folcloristica Ma il cimento è un atto di coraggio forte Però non mi sembra che sono da solo Ci sono tanti temerari del fiume Delle acque gelide Che vogliono affrontare bene questo inizio anno Per questa edizione di Consiglio News è tutto Grazie per averci seguiti Ci vediamo alla prossima puntata Arrivederci Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video